Benvenuti su Gossip Mania TV. Selvaggia Lucarelli shock contro Chiara Ferragni a Piazza Pulita, non lo ha capito ancora. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Selvaggia Lucarelli ha nuovamente preso di mira Chiara Ferragni durante la sua partecipazione a Piazza Pulita sulla 7, il 16 maggio 2024. La giornalista, nota per le sue posizioni critiche nei confronti dei Ferragnes, ha affrontato senza mezzi termini la situazione attuale dell'influencer cremonese, soprattutto dopo i recenti scandali che hanno coinvolto la sua figura pubblica, come il caso Balocco-Gate e la separazione da Fedez. Secondo Lucarelli, Chiara Ferragni sarebbe arrivata a un punto di non ritorno nella sua carriera. Se Chiara Ferragni potrà continuare a fare questo lavoro dopo quello che è successo? Intanto mi verrebbe da dire quale lavoro, ha ironizzato la giornalista, notando come la Ferragni abbia perso la sua immagine di «intoccabile». «Io credo una cosa, credo che Chiara Ferragni non abbia ancora realizzato che Chiara Ferragni è morta», ha affermato Lucarelli, suggerendo che la Ferragni dovrebbe ripartire da zero anziché cercare di recuperare il suo precedente ruolo sui social. Lucarelli ha paragonato Chiara Ferragni a un prestigiatore che, una volta scoperti i trucchi, non può continuare a incantare il pubblico come se nulla fosse. Tu in quel momento non puoi più chiedere al pubblico di continuare a crederti e portare avanti quel numero come se niente fosse. Adesso deve cambiare numero», ha affermato la giornalista. Le critiche di Lucarelli rispecchiano in parte anche quelle espresse di recente da Fabrizio Corona, il quale ha suggerito che Chiara Ferragni dovrebbe prendersi una pausa e reinventarsi. Chiara Ferragni non ha ancora capito che è finita, almeno per com'era prima. «Adesso dovrebbe sparire per un po' di tempo, poi tornare e reinventarsi», aveva detto Corona in un podcast. La posizione di Selvaggia Lucarelli riflette un consenso crescente nel mondo dell'intrattenimento riguardo alla necessità per Chiara Ferragni di rivedere la sua strategia e il suo approccio alla luce degli eventi recenti. Resta da vedere come la Ferragni risponderà a queste critiche e si adotterà una nuova strategia per riconquistare il favore del pubblico. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip.